Una settimana che può essere considerata tra le migliori degli ultimi mesi dal punto di vista dei contagi, mentre è stata dura per i decessi, troppi, ancora tanti. E uno se ne conta ancora nelle ultime 24 ore. Intanto sono 244 i pazienti positivi riscontrati, secondo il bollettino inviato dall'ASPE, tutti in isolamento domiciliare, dei quali 85 sono di Gela e 52 sono di Caltanissetta. Scendono il numero dei ricoverati, 57 in malattia infettiva, ancora 3 in terapia intensiva e in tutto sono 741 i positivi in città.